E' stata approvata dal Consiglio regionale delle Frui Venezia Giulia la legge che nel centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, 1914-2014, valorizza il patrimonio storico-culturale e promuove iniziative sul territorio a favore del progetto di legge che hanno votato tutte le forze politiche con la storia di astensione del Movimento 5 Stelle. Il testo si compone di sedici articoli e intende valorizzare i beni e favorire un approfondimento storico-scientifico e coinvolgere le scuole sulla conoscenza del conflitto che fece 10 milioni di morti tra i militari, 22 milioni di feriti, 7,7 milioni di dispersi e 6,7 di vittime civili. L'assessore regionale della cultura Gianni Torrenti ha presentato in sede di discussione in aula due norme finanziarie che mettono a disposizione per i vari interventi 2,9 milioni di euro nel triennio 2013-2015, 146 mila euro per il 2013 e 1,4 milioni circa nel 2014-2015. Interessanti le ricadute turistiche per il frullo di Venezia Giulia che con il Sacrario di Puglia calamita ogni anno 350-450 mila persone. Secondo le stime il turismo della memoria potrebbe portare in regione altre 600 mila persone all'anno nei prossimi 5 anni.